Tre ragazzi rimasti bloccati su un isolotto del Brenta nel bosco dei Baini a Fontaniva in provincia di Padova sono stati salvati l'altra sera. Avevano parcheggiato l'auto ed erano partiti per fare un'escursione quando ad un certo punto hanno perso l'orientamento e non erano più in grado di tornare. Hanno diramato la richiesta d'aiuto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco assieme ai carabinieri. Dopo che i tre ragazzi sono stati localizzati i pompieri acquatici hanno calato in acqua un gommone da rafting e li hanno raggiunti in una zona impervia portandoli in salvo.